Ciao, sono Daniela Masseroni e sono educa allenatrice del progetto Allenarsi per il futuro delle aziende Bosch e Ranstad. Sarò con voi al Forum delle Risorse Umane per parlare dell'importanza di sviluppare competenze adeguate per affrontare al meglio le trasformazioni tecnologiche che caratterizzano il mondo del lavoro. Lo faremo in un modo particolare, attraverso la metafora dello sport che mette al centro l'allenamento come fattore principale per sviluppare competenze utili a utilizzare la tecnologia in modo competitivo ma che non dimentica l'importanza del fattore umano affinché queste competenze ci possono anche rendere vincenti. Vi aspettiamo al Forum delle Risorse Umane e andiamo a vincere!